Stai facendo un errore, stai mettendo in pericolo le nostre vite, siamo andati troppo oltre! E' esattamente come prima, l'America ci usa come dei burattini dandoci soldi e speranza e poi ci volta le spalle nel momento cruciale! Tu ti chiami Mike e tu ti chiami Valerie, non avete cognomi, non avete famiglie, avete abbandonato le vostre vite per diventare un simbolo dell'America! Qual è il tuo problema? Dovresti essere quel simbolo! Non fate quello che vi hanno detto, fate quello che è giusto per noi, per il vostro paese! I nostri ordini vengono dal presidente in persona. Perché continuate a seguire un uomo che ha paura? E di cosa ha paura? Che il mondo si scandalizzi perché vuole uccidere un uomo che ha pianificato di uccidere lui! Un uomo che ha dichiarato una fatua su ogni uomo, donna e bambino nel suo paese! Un uomo che usa tutto ciò che è in suo potere per uccidere degli innocenti! Questo non è l'uomo che il mondo ha bisogno di proteggere! Allora siete come i ragazzi che Bin Laden manda in missioni suicide! Che hanno fiducia che lui sappia la verità sul Corano! E che ci sia un posto garantito in paradiso! Il nostro sangue è sulle vostre mani! Ali, svegliati! Va tutto bene! Muglia, le mie figlie, le hanno prese! Ce l'hanno loro! Ali, abbiamo trovato tua moglie! È morta! No, no! 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 Calma, portatelo via! Ah!